ciao spero stiate tutti bene intanto l'appuntamento volevo rinnovarvi l'appuntamento per domani mattina come sempre con la musica e in qualche modo anche i vinili domani domani beh domani parleremo di arte ma parleremo di arte insieme anche a quella che sono le copertine dei vinili sì perché fino agli anni 50 dovete sapere che effettivamente i vinili non avevano una copertina molto interessante poi fu proprio questa copertina quella del dei beatles lovely heart surgeon peppers a dare la svolta a quelle che sarebbero poi diventate le collaborazioni anche nel mondo artistico siamo nel 1967 è proprio appunto una sotto un'idea di paul mccartney venne realizzata questa in copertina che era anche di quelle che si aprivano molto molto particolare e pensate che l'anno successivo ebbene sì questa copertina vinse pure il gremmy come miglior copertina per l'album questa è solo una dei tanti esempi che possiamo fare a livello di diciamo così di musica e di arte ne vorrei parlare domani con voi come sempre alle 9 a partire dalle ore alle 9 insieme a me nel mio spazio quindi vi aspetto mi raccomando puntuali e spero siate siete siete siate in tanti come tutti i martedì passati per poter chiacchierare sicuramente con voi e raccontarci un po di musica e un po di arte vi aspetto domani alle 9 puntuali ciao parleremo anche di loro ciao